eccoci qua e immaginerete la mia gioia perché insomma è da giugno che speravo che il ciolito venisse a Napoli lo avevo auspicato e il ciolito è qui Giovanni buon pomeriggio. Ciao buon pomeriggio. Grazie innanzitutto per essere con noi partiamo dalla Champions League e io ti osservavo guardavo quel tatuaggio tu ci tenevi moltissimo a giocare la Champions ebbene l'hai giocata un girone difficile il Napoli il girone lo vince da primo e a pro dagli ottavi un percorso di grande livello in Champions League sì per me è stata un'emozione incredibile soprattutto per la prima partita che è stata il colpo di del sogno che uno sempre da piccolo vuole e lotta per arrivarci e da lì abbiamo iniziato a fare a fare molto bene abbiamo continuato a crescere su su ogni partita e abbiamo dimostrato che che il Napoli è questo che ha questa questa identificazione e dobbiamo continuare con questa questa strada credendo su su quello che facciamo e continuando continuando su questo su questo percorso che stiamo facendo molto bello senti senti Giovanni al termine di Liverpool Napoli ancora non si conoscevano tutte le seconde classificate Spalletti ha detto più cattive ce le daranno le squadre e più saremo contenti lunedì prossimo c'è il sorteggio in seconda fascia ci finisce il Paris Saint Germain ora capisco quello che ha detto il mister evitarlo però forse sarebbe meglio o sarebbe comunque affascinante affrontare il Paris Saint Germain di Messi argentino come te di Neymar di Mbappé il sorteggio ovviamente sarà sarà bello da 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 vedere da capire con chi ti può toccare però penso che tutti i tutte le squadre che sono sono rimaste sono i più forti sia sia Paris Saint Germain che che anche il Borussia Dortmund che ti può toccare penso sono squadre forti e capaci di di lottare con con chiunque e ovviamente sempre uno spera di 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 fare bene e di continuare a a a lottare per 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 vincere le tutte tocchi chi tocchi sicuramente il mister sarà e noi saremo pronti per dimostrare chi è che che cosa è il Napoli e cosa sta facendo per per far vedere a qualsiasi squadra quello che siamo noi senti Giovanni arrivi a Napoli club importante a me ha colpito molto una frase che che tu hai detto in una recente intervista hai parlato della qualità del tempo non è detto che uno debba giocare 90 minuti io in realtà a giugno mi permisi di dire ai microfoni di Kis Kis Napoli se fosse il Napoli prenderei Giovanni Simeone perché uno come Simeone con Spalletti per come gioca fa un gol a partita avevo sbagliato perché tu fai un gol ogni 60 minuti quindi come dire ho sbagliato la previsione immagino che tu sia molto molto felice di questa esperienza che stai vivendo e aggiungo secondo me siamo solo all'inizio beh come hai detto te siamo siamo all'inizio sono da pochi mesi qua sono molto contento di di lavorare con questo gruppo di di continuare a crescere eh su ogni allenamento perché il gruppo e i giocatori mi fanno mi fanno crescere e mi fanno capire tante cose mi fanno eh vedere cose che forse prima non non vedevo e e ti ripeto sono da poco qua poi ho imparato con il tempo con l'esperienza che che la qualità conta molto di più rispetto a a quanti minuti puoi giocare poi ovviamente uno sempre vuole vuole giocare di più vuole sempre segnare di più e vuole sempre più minuti ma ma per un per un fatto di che sempre hai più possibilità aiutare a questo gruppo quello che mi tocca eh come sempre l'ho detto darò al massimo e e poi starà al mister e starà al gruppo la partita e se hanno bisogno di me ci sono senti ora ti chiamo sciolito perché a me piace chiamarti così e ti faccio rivivere tre momenti della stagione Milano Milannapoli cross di Mario Rui gol di Simeone Cremona cross di Mario Rui gol di Simeone Rangers cross di Mario Rui in volo il sciolito fa gol gli porti il caffè la mattina perché questo ti fa assist poi tu sei meraviglioso ma Mario Rui quant'è bravo il maestro eh lui lui ha una qualità e una visione quando quando un giocatore riesce e soprattutto un tersino riesce a stoppare e avere tempo di guardare l'attaccante vedere un movimento così è molto più bello e forse anche per un attaccante diventa sempre più facile perché il movimento che fai sai che la palla rimane lì e guarda il primo gol anche con Rangers è stato Giovanni Di Lorenzo a darmi quel passaggio che io ho fatto quel movimento io credo molto che in questa in questa squadra o nelle squadre grandi veramente che che vogliono arrivare a a tanto hanno bisogno di tersini forti eh tersini che sappiano giocare che sappiano difendere che sanno costruire perché fanno la differenza oggi oggi i tersini sono quelli che che fanno più differenza dentro del campo e noi abbiamo grandissime tersini eh dove hanno tantissime qualità e capacità per sia per difendere che per guardare l'attaccante questa cosa molto importante per noi siamo con Giovanni Simeone il ciolito eh senti Giovanni dalla Champions ora spostiamoci al campionato Atalanta Napoli l'avete iniziato a preparare praticamente oggi domani la rifinitura si va a Bergamo sono tutte importanti possiamo dire che questa forse è un pizzico più importante o non fa mai differenza per me ovviamente è molto importante e credo che si fa si fa tanta differenza per questi tre punti però il campionato è lungo bisogna stare tranquillo avere quelle emozioni quei quei brividi da da sapere che ogni partita con ogni partita conta ogni tre punti sono importantissimi però sapere che che questo è lungo che bisogna lottare bisogna far vedere a tutti che ogni partita conta puoi giocare contro l'Atalanta che puoi giocare contro chiunque conta i tre punti e conta molto sapere e far dimostrare che noi ci siamo sempre per me conta tantissimo conta tantissimo far capire agli altri che di che il Napoli è quello che che avete visto voi e con ti e così dobbiamo continuare a farlo dimostrare senti Giovanni hai detto che tu hai un'agendita dove hai segnate tutte le partite e ovviamente sabato c'è l'Atalanta martedì c'è Napoli Empoli sabato successivo Napoli Udinese ma tu sulla tua agenda hai segnato anche le partite che si giocano in Qatar o quelle ancora non le miss no no quelle no mi preparo sempre per la partita che viene prossima so che ci sono tante partite e poi c'è anche lo del mondiale ma aspetto con tanta ansia di sapere se se ci sono o no e io penso che ho fatto tutto il possibile per farli capire all'allenatore che che ci voglio essere poi ovviamente starà lui decidere e e decidere chi sono per lui il gruppo che che potrà entrare dentro del mondiale e ho questa agenda da da un anno un anno e mezzo che lo sto facendo e e mi aiuta tantissimo a a a prepararmi a prepararla a a far vedere ogni situazione che devo fare e e così mi alleno e mi miglioro perché così guardando anche gli altri giocatori altra squadra capisco come che devo fare vuoi farti una risata ora a proposito di agenda ti faccio vedere la mia di agenda questa è la mia e non racconto bugie il 22 novembre c'è Argentina Arabia quanto ti piacerebbe giocarla tantissimo già ti dico dall'inizio che che dell'anno scorso che ho iniziato a segnare ho sempre aspettato e con tanta ansia il momento so che 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 ogni ogni cosa che faccio la domenica è una grande possibilità per far dimostrare all'allenatore che ci voglio essere mi alleno ogni giorno veramente ogni giorno per 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 farmi per farmi vedere per far capire che ci voglio essere che che sono pronto per qualsiasi situazione poi ti dico l'allenatore quello che sceglie io solamente voglio far vedere che che sono pronto per qualsiasi situazione sono pronto in questi mesi da quando sei a Napoli ho intervistato molte persone che ti conoscono bene e tra queste mandorlini pantaleo corvino e semplici sono tutti pazzi per il ciolito ma cosa hai di speciale Giovanni non lo so sono un ragazzo semplice non cerco di non parlare troppo di ad ascoltare tanto e di lavorare non non ci sono tante tanti segreti lavoro sto in silenzio e lavoro poi il resto penso che le cose accadano perché uno quando lavora e si sforza per arrivare poi le cose vengono uno sempre deve essere pronto per la per quella opportunità perché alcuni dicono che la fortuna no la fortuna non viene a sola ho sempre preparato quel momento per per arrivare a quel quella situazione e adesso sono qua approfittando ogni situazione e Giovanni le ultime due domande la prima c'è un allenatore Spalletti che ti tratta come un figlio e poi c'è un papà tuo papà Diego Simeone che però ogni tanto si relaziona a te come un allenatore con chi condividi anche molte cose legate al campo anche con papà oltre che ovviamente con Spalletti che consigli ti dà papà 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 è da e da anni già ormai che non mi dà consigli dentro del del campo perché io un poco un poco con questa cosa di di avere una persona come un papà che allenatore bisogna capire che è un papà prima no bisogna farci capire anche con tra lui e me sempre ogni volta che ci parliamo è inevitabile parlare di calcio però non parliamo di cose puntuali di un movimento mio cosa dovrei fare perché lui ha sempre rispettato all'allenatore che ho sempre avuto sempre non si è mai mai permesso di fare o dire qualcosa che 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 potrei migliorare o cosa lui sempre mi ha visto rispetto come mi muovo lui dice che il linguaggio del corpo è molto importante e tante volte quando lui mi guarda nella tv mi dice guarda secondo me qui non stavi bene perché c'avevi qualcosa nella testa e mi chiede una cosa più particolare no di mentale non di calcio e da lì gli parlo di cosa ho avuto cosa c'ho o qualcosa del genere però normalmente sempre ha dato spazio a all'allenatore che c'ho e nel momento per per sempre farmi migliorare lui Giovanni questa intervista la voglio chiudere tu l'avrai capito che io sono molto felice oggi di di averti di averti qui te l'ho sempre detto la voglio chiudere in modo particolare ti ho portato un dono è un libro parla dei calciatori del napoli nella storia c'è c'è maradona è un libro destinato ai bambini e in questo libro c'è scritto che non bisogna mai smettere di sognare tu ce l'hai dei sogni magari nel cuore ma certo da piccolo sempre ho voluto essere qua immagina per me i sogni le emozioni tutto quello che sto vivendo lo vivo con tanta tanta emozione e con tanta voglia poi ogni sogno di di voler giocare di voler diventare sempre più forte ce l'ho in mente sempre adesso sono qua e continua a sognare in grande perché so che non c'ho limiti Giovanni io ti guardavo e ti ascoltavo nei tuoi occhi c'è una cosa vediamo se la indovino tu sei felice eh sì si vede da tu perché mi hai visto adesso ma ogni volta che cammino che sono qua mi chiedono come stai sto bene bene sto bene sono felice e che ho scelto di venire qua e da tantissimo che ci volevo essere e ho lottato tanto e abbiamo lottato tanto con il mio procuratore di di arrivarci perché sapevamo che non era facile però ho sempre voluto essere qua e una volta che ero arrivato qua e ho firmato e ho detto adesso è il mio momento allora ci salutiamo qui ringraziandolo noi abbiamo una scaramanzia col ciolito che non vi diciamo ovviamente però lo saluto dicendogli vamos 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 Cholito linea lo studio linea lo studio Grazie a tutti.